Operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Guardia Costiera di Lipari sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania e della Capitaneria di Porto di Milazzo. Sono state impegnate nel mare di Lipari per contrastare la cattura illegale e garantire la protezione di stocchi ittici a rischio. È stata intercettata in mare una rete di tipo spadara di circa 8 chilometri di lunghezza e sono stati recuperati 9 esemplari di ala lunga. La rete del pescato sono stati trasportati a terra e sbarcati verso la banchiera del porto Pignataro da Lipari. I militari hanno sequestrato per la successiva confisca l'attrezzo di pesca non consentito. In seguito a controllo sanitario effettuato dal veterinario locale che ne ha dichiarato l'idoneità al consumo umano, il pescato è stato donato in beneficenza. I controlli sulla pesca che fanno seguito alle attività già condotte a livello del compartimento marittimo per il contrasto delle catture effettuate con attrezzi non consentiti verranno ulteriormente implementati a terra e in mare nel corso della stagione. L'operazione è chiaro indice di come la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera continuino a dedicare particolare attenzione al monitoraggio del prodotto ittico dalla cattura alla commercializzazione, a tutela del consumatore di linea con le proprie competenze prerogative istituzionali.